Bentornati! Oggi vediamo la prima maglia del Galles per i mondiali che si stanno disputando in Qatar, nell'edizione FAN, la versione un po' più comoda pensata per i tifosi, e di chi se no, se non di Bale. La maglia da casa della Coppa del Mondo Adidas Galles 2022 ha un design semplice, con un colore di base rosso e tre strisce bianche sulle spalle. Il girocollo tondo ha delle rifiniture verdi e bianche, mentre il nuovo logo di Adidas è bianco. Lo stemma della FA del Galles è posizionato sul lato sinistro del petto. La maglia da casa del Galles World Cup ha strisce tono su tono, che lasciano semplici sezioni rosse a zig zag nel mezzo. Pantaloncini bianchi e calzettoni rossi completano il kit. La struttura in morbido tessuto anti umidità AeroReady assicura il massimo comfort. La maglia è veramente molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Le rifiniture sono giuste? La vestibilità per essere una M secondo me è un po' abbondante, però devo dire la verità mi è piaciuta tanto. Qui in alto trovate il costo che per una versione fan fatta così bene è veramente imbattibile. Peraltro vi ricordo che in descrizione, oltre a trovare tutti i riferimenti per ordinare la maglia, trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete poi spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale, nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan!